Ciao a tutti, sono Giovanni Bellino, ingegnere meccanico e collaboratore di diverse associazioni che promuovono progetti a sostegno delle persone con disabilità. Ho sempre desiderato applicare le conoscenze acquisite durante il mio percorso di studi e nella mia vita professionale per aiutare chi come me ha bisogno della tecnologia per superare diverse difficoltà. Per questo motivo ho creato Ausilio Giusto, un canale YouTube per fornire informazioni sulle tecnologie assistive per le persone con disabilità, in modo semplice e fruibile a tutti. Gli ausili rappresentano il modo più immediato per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità nella società e per questo è importante avere una conoscenza generale al riguardo. Infatti queste informazioni non servono solo a chi deve scegliere l'ausilio più adatto alle proprie esigenze, ma possono anche favorire un'istruzione e un mercato del lavoro più accessibile a tutti. Inoltre possono contribuire a evitare gli errori ancora commessi nel garantire l'accessibilità di spazi e servizi sia fisici che digitali. In sintesi, Ausilio Giusto è il canale ideale per rimanere costantemente aggiornati sulle tecnologie assistive per le persone con disabilità. Se sei interessato a questi argomenti, ti invito a iscriverti al canale, spuntare la campanella di notifica e mettere un like al video se ti è piaciuto. Grazie per la tua attenzione e ci vediamo al prossimo video.